Nuova pista da Bob, quale sarà l'eredità che lascerà la struttura una volta finite le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali del 2026? E' la domanda a cui hanno cercato di dare risposta i partecipanti al primo tavolo tecnico dedicato al tema, convocato dal sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi. L'obiettivo più a lungo termine è quello di garantire la continuità del funzionamento dell'impianto nell'ambito sportivo, turistico e ludico, a partecipare all'incontro diversi soggetti che rappresentano le parti coinvolte a vario titolo, dalla provincia alla regione alla Fisi e al CONI. Tutti hanno espresso la propria soddisfazione per la riunione, riconoscendo, si legge in una nota, l'importanza strategica dello sliding center non solo per Cortina D'Ampezzo, ma anche per l'intero panorama sportivo nazionale e internazionale. Soddisfatto il proponente, il sindaco Lorenzi, che ha dichiarato «Questo tavolo tecnico rappresenta un passo importante verso una gestione ottimale dello sliding center». Sarà appunto un'eccellenza dove tutti i piloti vorranno, diciamo, provare, soprattutto anche dal punto di vista agonistico. Ieri si è incominciato a ragionare su un calendario di eventi che verrà dal 27, diciamo, dopo l'evento olimpico, lo sliding center è interessato, sia dal punto di vista di eventi internazionali che dal punto di vista di allenamenti, sia delle nazionali, diciamo, italiana e quindi diventerà sicuramente un'eccellenza. Organizzeremo una riunione a breve, ma soprattutto per tornare nel merito di quella che è la programmazione della pista, perché è fondamentale che questa pista abbia una programmazione pluriennale in maniera tale da garantire il suo utilizzo. Da non dimenticare il contributo della Fondazione Cortina, già impegnata nella pianificazione delle attività future dello sliding center, sia in ambito agonistico sportivo che ricreativo, la Fondazione, conclude Lorenzi, si conferma dunque un partner cruciale anche per la gestione futura della struttura. Le federazioni sportive presenti all'incontro hanno sottolineato come la posizione geografica di Cortina renda la pista una risorsa fondamentale. Per quanto riguarda il piano finanziario, la Regione Veneto ha incaricato una delle principali società internazionali di revisione e consulenza di valutare e certificare i costi e i potenziali ricavi dell'infrastruttura. La stima definitiva pare sarà fornita a breve. Le prossime riunioni del tavolo tecnico sono state fissate per i mesi di novembre e dicembre.